Bella ragazzi! Qui è Prince Peter e benvenuti in questo nuovo video. Vai con la intro! Ebbene sì ragazzi, questa è la mia faccia. Niente insulti per favore. Comunque, faccio questo video perché è esattamente un anno che faccio video per la ponda. E volevo ringraziarvi perché senza il supporto, senza voi che guardate i miei video, senza quei pochi commenti ma comunque che hanno un gran valore per me non credo che sarei andato avanti. Oggi è il 23 maggio e siccome è un anno che faccio video, esattamente un anno fa, ho caricato il mio primo video. Era un tutorial. Questa storia l'ho raccontata tipo di cimila volte. Ci sarà anche forse una playlist su quante volte ho raccontato questa storia nel mio canale. Comunque, stavo dicendo... Comunque, sì, il primo video era un tutorial. Come ho già detto era... Luke4316 mi aveva ispirato a farlo. Quindi ringrazio anche lui ma ringrazio i miei video dopo. E pensavo di non fare video. di smetterla lì col primo tutorial e così giusto per caricarlo. Poi l'ho fatto in inglese. La sensazione è mi piaciuta, cioè... Voglio esprimere me stesso. Voglio un po' comunicare con il mondo in un modo originale perché... Non... Sì, i canali di YouTube sono tanti ma... Canali... Quelli che non hanno un canale YouTube sono molti di più. Che dire... Sì, allora ho continuato, ho cominciato a fare dei tutorial. Ma non me la cavavo, la gavavo proprio best. Io faccio gaming di Minecraft perché è l'unico gioco su cui non laggo all'inizio. La gavavo tanto anche su quello, non che sono laggi. E comunque... Come dire... Sì, allora ho continuato. E poi... Ho messo l'unità di Jack, Matteo e Ray. E allora abbiamo cominciato, poi abbiamo conosciuto Maxis, Laudo. E questo devo dire che forse è stata la parte più bella di tutto... Tutta l'avventura su YouTube. Perché... Questi mezzi qua, questo che è quasi un gioco... Tramite un gioco, fare amicizia, stringere amicizie è molto bello. Che hanno bussato dalla porta. Comunque... Stavo dicendo... Usare un gioco, un'avventura, una cosa che ci piace anche per stringere amicizie con persone che... Non conosciamo di persona. Qua c'ho i capelli messi in un modo terribile. È una cosa davvero bella, ti dà soddisfazione. Poi, il rapporto iniziale da me, tra YouTuber e iscritto, che avevo ad esempio con Maxis i primi due video in cui c'era... Uno, due, boh, non mi ricordo. Neanche usavo il microfono perché si vergognava quasi. Non lo so, non so perché non lo so se non mi ricordo. Aveva dei problemi con il microfono, non mi ricordo. Però, il rapporto iscritto YouTuber, YouTuber iscritto, si è evoluto in un rapporto amico-amico. Anche quei pochi video che abbiamo fatto con l'Audo per problemi. Prima, erano più YouTuber, più grande con YouTuber più piccolo. Perché io sono un po' più grande di l'Audo, però anche lui è bravo. Ma... Più che altro si sono trasformati tutti in amico-amico. E questo mi fa davvero molto piacere. Poi... Ci siete voi, ragazzi, perché... Io vi dico sempre di commentare, di dirmi la vostra, non lo fate mai. Ma questa è un'altra storia, non importa. Comunque, io cerco di rispondere a tutti i commenti che mi fate. E cerco di... Ho gli occhi rossissimi. E cerco di, come si dice... Farvi... Odizionare qui, quindi potrei cercarla. Verbo in inglese, twinvolve. Non saprei come dirlo. Di rendervi partecipi del canale, però... Adesso, con il nuovo computer, perché... Tra un mese, penso... Blazano sarà finito, direi di sì. Ehm... Sì, tra un mese, penso... Ci sarà... Allora non riuscirò a prendere 9. Sono abbastanza sicuro che potrò prendere 9. Ma sarà tutta una versione che vuoi dire. Se volete, poi vi racconto anche come è andata. Comunque... Allora... Cambiamo al momento. Quest'estate... Io non avrò tipo neanche un secondo libro. Sono in Sardegna con un'associazione di camping, di scout, più o meno. Ehm... A luglio. Poi gli esami vai fino a luglio, poi da luglio, agosto più o meno sono in Sardegna. Poi vado in vacanza, yeee, con la mia famiglia. Magari faccio anche qualche vlog, qualche video. Così, dalla vacanza, così per ottenermi i miei formati, se volete. Comunque, per quanto riguarda il canale, Ehm... Ho intenzione di ricominciare. Cambieranno i video. Tanto, vabbè, Minecraft lo teniamo, ma ci saranno molti giochi. Mi piaceva provare Fallout 3. Fallout 3 o Fallout New Vegas, che... Sono molto belli come giochi, non solo come sparatutto, ma anche come giochi di ruolo. Volevo intraprendere qualche gioco un po' così, random, da fare ogni tanto, come Ace of Spades. Una serie, così, tra amici su Castle Crashers. E poi, una cosa che mi incuriosiva è Cube World. Cube World è un gioco che è permanentemente in sviluppo. Credo che non sia ancora neanche in beta, in alpha, sì. Però non l'hanno ancora rilasciato. Ho sentito qualcuno che aprirà la parte. E... e niente. Comunque, potete cercarlo, è abbastanza bello. È un misto tra Minecraft e Zelda, che appena uscirà, sicuramente grazie. Io ci farò almeno un video. Se... ah, sì, poi c'è Skyrim. Skyrim mi farebbe piacere provare. Comunque, se volete qualche gioco, qualche serie, qualche custom map, qualche... non so, qualche rubrica speciale, scrivete qua sotto. O sotto il... il video di rivoluzione del canale che verrà quando arriva un nuovo computer. Ehm... che dire. Ok, un argomento. Comunque, ok, siamo arrivati a 110 iscritti. Esattamente oggi, 100 iscritti il 29 aprile, è il mio compleanno, bella. Da qua al 29. Comunque... 110 iscritti, voglio ringraziare... e anche per tutto l'anno, tutta questa questione, voglio ringraziare Matteo, prima di tutto. Jack, che per chi lo sa... e per chi non lo sa, è mio fratello. Poi voglio ringraziare Maxis Laudo per il discorso che ho fatto prima. E voglio ringraziare tutti voi iscritti. Grazie mille per chi mi seguite. E mi... mi supportate, sì, il vostro supporto è molto utile, molto... come dire, molto importante per me, perché... senza supporto, senza... voi che vi iscrivete, che mettete mi piace, che commentate... non so se mi verrebbe voglia di continuare. Credo di non dover salutare nessun altro. E no, scherzavo, ragazzi, devo salutare... devo salutare proprio Reynor. Devo ringraziare Reynor. perché Reynor è un po' colui con cui ho discusso di quello che fa del mio canale. Voglio ringraziarlo, voglio ringraziare... niente, nessun altro. Voglio ringraziare la mia famiglia per avermi supportato, ringrazio tutti i miei amici al di fuori di YouTube per avermi supportato. e niente, saluto tutti voi. Il video sta durando 6 minuti, 0,3. Sto registrando l'iPod. Che dire, ho fatto tipo questo video, l'avevo fatto 9, 10, 11 volte. Prima volta che lo faccio fa telecamere ferma, se di solito... era sempre così, in mano. Ci ha rotto tutti i ragazzi, bella! Comunque... niente, basta, il video è finito. Mi scuso per il video dei 100 iscritti, ecco. Una questione di cui vorrei parlare. È il video dei 100 iscritti. Lo so, è venuta una cagata. Più che altro era di una tristezza immensa. Io con la voce... Bella ragazzi, con i prezzi... Sono mezzo fatto, no? Ero da... No ragazzi, ero lì, nel letto. Lì dietro. Lì? Adesso c'ho un cacciavite in mano. Ero lì dietro. Esatto, lì. Che mi riferava una giornata fatta piena di compiti, con dei compiti di cui non starò a raccontare per evitare che la mia prof... Magari poi legge la prof. Oh ma vediamo, questo per il scritto sembra simpatico. Comunque, guarda i video. E mi sento che parlo male di lei, no? Meglio di no. Comunque! Boh, che devo dire? No, ho finito con il cui dovevo parlare. Ragazzi, vi ringrazio ancora. Mi raccomando, fate anche un salto sul canale di Biglaudio e di Matteo per supportare il fatto in salto sul loro canale. Rimane qua sotto. E non la sopra. Comunque, come si dice, fate un salto anche sulla pagina Facebook. Ci posto quasi settimanalmente, più stati di aggiornamento e di varie info. Mi scuso con Lethal Games 64 per non aver caricato i video che gli avevo promesso. ma ho dei problemi con l'iPod, che è lì. L'altro iPod è quello con cui registro i video di Minecraft Pocket Edition, è di là. E niente, se ho la faccia stanca è perché sono stanco. Sono le 20.54. Voi non avete detto niente al contrario. E ho fatto un sacco di cose al cinema, non ho fatto niente, però, chi se ne va. Niente ragazzi, vi saluto. Spero che il video vi sia piaciuto. Continuate a seguirmi, mi piace, mi commentate. Mi raccomando, commentate. Se avete delle domande da farmi, dei consigli da darmi, delle richieste, delle proposte, quello che volete, qua sotto. Sì, dai, tra un mese finisce tutto. Sì, doveva finire, non credo di venire bacciato. E niente, vi saluto, ragazzi, statemi bene e alla prossima. Bella!